Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano, siamo a Monte Carlo, sta diluviando e sono ottavo in griglia ragazzi, ho fatto un bel giro e forse siamo competitivi, ma forse, quindi calma, tranquillità e proviamo a fare il miracolo. Fatti geligare ovviamente le gomme intermedie per il momento, c'è tensione. Ok, il giro di formazione è iniziato e devo dire che il meteo oggi non è dei migliori per quanto riguarda visibilità e tenuta su strada. Mentre il giro finisce, ogni pilota cerca di raccogliere tutta la concentrazione possibile, dato che queste condizioni richiederanno un grande sforzo. C'è tensione Beppe, c'è molta tensione. Non cambio mai i pezzi a Monaco perché faccio cagare e mi ritiro, invece guardate che roba, ho il cambio già finito. Abbiamo raggiunto un livello preoccupante di usura nell'unità a combustione interna, proviamo a ridurre i giri del motore, sali di marcia in anticipo e poi scala più avanti. Penso che mi ritirerò comunque, probabilmente. Peccato perché avevo passo. 40 giri con quel cambio non lo faccio, forse il motore lo salvo, forse. Vabbè, vediamo, io ci provo. Eh però, si vede che hanno cambiato i controlli, vado molto meglio a Monaco adesso. Anche per chi, diciamo, gioca col joystick, attenzione. Stai spingendo troppo, non so quanto il cambio potrà reggere questi ritmi. Eh lo so. In che posso, io ci provo. Guarda che pioggia ragazzi. Mamma mia, siamo settimi con un buon ritmo. Non ho parole. Ho dato per scontato di far schifo, invece. Ahia. Vedete, ho la macchina distrutta dopo neanche un giro. Che bello. Vediamo se la macchina tiene, ma... Forse se facciamoci in 38 giri sulla 7K, forse sì. Sì, comunque a Monte Carlo, che adesso si può guidare anche col joystick, che bello. Perché non è più una gara persa. Vediamo se sarà qualche colpo di scena a Monte Carlo, che di solito è sempre una gara tranquillissima. Sembra che sia fatta apposta proprio per andare al problema. Stiamo accumulando usura su MGU-K. Dobbiamo moderare la modalità di erogazione delle RS. Non stiamo andando male rispetto al solito qui, nel circuito Monegasco. Ok, l'MGU-K è usurato. La velocità di carica della batteria è ridotta e se la situazione peggiora saremo costretti a ritirarci. Lo so, lo so. Voglio comunque fare i giri per... per prendere sempre più confidenza con questo circuito. Stiamo rilevando dei problemi imminenti al cambio. Attenzione agli inceppamenti e alle marce mancate. Eccoci qui. Dai, sappiamo che la prossima volta possiamo, anzi dobbiamo, mettere i cambi per Monte Carlo. Non è più una gara da ritiro sicuro. Spero che stiamo perdendo, ma abbiamo anche la macchina finita. Questa pioggia leggera potrebbe accompagnarci a lungo. Molto bene, molto bene. Ok, adesso se ne stanno andando, ma... sono sicuro che con una macchina diversa... la situa... è diversa. Attenzione. Diamo il giro. 1.26 fanno loro comunque. diciamo, sono da punti, ma lontano dalla vittoria, però... Cazzo, di solito Monte Carlo è un disastro. Stiamo riscontrando un problema con il cambio. Potresti avere difficoltà a inserire le marce normalmente. Eh sì, eccole qua. Basta, basta. Eh sì, eccole qua. Basta, basta. Quasi potrei anche tenere i componenti... tenerli buoni e non sprecarli. Vabbè, però con la macchina non c'è più. Basta. Ok, adesso stiamo notando una perdita di potenza dal turbocompressore. Perdita di potenza del turbo. Basta, è andata. Possiamo parcheggiarla. Peccato. Ritiro, ma non per demeriti, ma per una macchina che veramente l'ha finita. Oi. Una gara che ha dell'incredibile. Il pilota ha dimostrato un'abilità senza... La Red Bull ha cercato... Eh, Verstappen vince. Guardiamo insieme la classifica piloti aggiornata. Non è stato il weekend migliore per il leader del campionato che vede ridurre il proprio vantaggio in vetta. Dimmi un po', Gavide. Chi indicheresti come miglior pilota del giorno? Oggi Max Verstappen ha guidato con una tranquillità invidiabile ed una precisione davvero campione. È stato lui il mio... Mamma mia, eh... Peccato, se dovevo cambiare i componenti andavo a punti sicuro. Ci sta, ci può stare. Ci può stare. Però ritiro che fa male questo, perché a punti potremmo andare sicuramente. Se andiamo in Spagna invece gara iper favorevoli. Annuncio di tiro. Ok. Perfetto. Senza non so so cazzo. Sviluppo. Possiamo fare un cazzo, praticamente. Beh, se possiamo migliorare la resistenza direi che possiamo farlo. Ok, struttura qua però non si può fare niente. Vai. Andiamo in Spagna. Vediamo il metro e poi ci becchiamo dopo le qualifying session. Un cazzo. Un cazzo, anche pioggia. Allora. Eh, pioggia e dopo alla fine. Madonna, casino ragazzi. Che stagione. Raga, ed è pole position. Quanto godo, ragazzi, nelle gare. Dove ci siamo, dove comunque siamo favoriti. O comunque gare favorevoli. Il Cume va alla grande. Super pole position di Veneziano. Possiamo vincere questa gara. Anche se ne ha fatto la pole in condizione di asciutto. Il cielo oggi è grigio e l'asfalto è bagnato. Ancora pioggia, ragazzi. Dopo la perturbazione moregasca. Mentre le auto si preparano per la partenza, noi speriamo di assistere a una gara emozionante. Talmente... Vai. Vogliamo la seconda vittoria. Stiamo accumulando usura su MGU-K. Come, oh. Dobbiamo moderare la modalità di erovazione delle RS. Ho cambiato i pezzi, ho preso un po' paura. Ragazzi, qua sembriamo veramente ipercompetitivi. Qua possiamo anche alzare il livello. In certe gare possiamo alzare anche il livello di difficoltà a godo. Salvo problemi meccanici o cagate come andiare, questa la possiamo vincere alla grande. E Barcellona, comunque, lo sappiamo che è una gara iper favorevole. E Barcellona è una gara iper favorevole. Vai, come involati verso l'Eternity Glory. Mamma mia. Vai. Siete subito a Fastest, ovviamente. Tra l'undicesimo e il ventisesimo giro c'è la sosta. Mamma mia, come stiamo andando, raga. Adesso siamo a 80, possiamo andare a 85, secondo me. E nelle gare favorevoli, siamo forti, cazzo. Quanto godo, signori. Sono entrato sul livello, diciamo, rispetto anche a una volta, forse un po' più basso, perché negli ultimi anni ho avuto un po' di difficoltà. Ma adesso sembra la giocabilità veramente tornata a livelli buoni. Eh ragazzi, stiamo massacrando la concorrenza oggi. Però calma, non è mai detto, è su questo gioco, lo sappiamo. Può sempre succedere di tutto. Ecco la cagata. Yellow flag, yellow flag. Ma è solo un testa a coda, non è ritiro. Quattro secondi di vantaggio, ragazzi. Che Aston, qui. In Catalogna. Buono. Mamma mia ragazzi. Charles, Sainz e tutti gli altri, sono spariti dai radar. Lungo lungo questa curva, con la pioggia facevo fatica. Abbiamo preso veramente l'argo. Il sottoscocca ha preso una botta. Ma nulla di serio. Boh. Non l'ho capita sinceramente. Tutto regolare, tutto perfetto. Per il momento. Ancora. Niente. Sto guardando un po' di più, infatti sto già perdendo. Calma. Oh, lo sottoscocca leggermente danneggiato e già vedo le differenze, cioè è pazzesco. Non ho parole, non so, d'oro danneggiato, però non capisco. Su un cordolo, ma boh. Molto strano. 6, 6 di vantaggio. Il sottoscocca è un po' danneggiato, avvertirai la differenza a breve. Il distacco dal tuo compagno di squadra è 12,3 secondi. Bello. Sempre concentrazione ragazzi, che basta un attimo. 1,5 secondi. 1,5 secondi. 1,5 secondi. 1,5 secondi. 1,5 secondi. Riduci la velocità. Il delta è troppo basso e rischiamo una penalità. Rallenta immediatamente. Io non vado in box adesso perché comunque è presto, sinceramente. Magari sbaglio, gli altri vanno, boh, guadagneranno qualcosa, ma non mi interessa, io non vado. La virtual safety car sta per finire, tieni il ritmo fino alla bandiera verde. Il regime di virtual safety car sta per terminare, attendi la bandiera verde. Incidente in pista, ma gli ufficiali non prevedono di far uscire la safety car per ora. Fa attenzione. Il distacco dal tuo compagno dietro di te è... 18,3 secondi. Ok. Il mio ritiro è eccellente. Distacco dall'auto dietro di te. 8,9 secondi. Mamma mia, come stiamo dominando la scena, ragazzi. Qualcosa di incredibile. Qualcosa di incredibile. Siamo ancora convinti di avere le gomme giuste. Ma assolutamente. Vile. Solo Sainz ritirato. Vediamo se però a fine gara c'era da mettere le gomme d'asciugno. Questo non lo so. Abbiamo un'ultima sosta nella nostra strategia. Ultima sosta per oggi. Ho perso tanto, è stato troppo fuori, cavolo. 6 secondi, la Verstapp è in cacchio. Ho perso tanto, è stato fuori qualche giro di troppo, forse. Il fume sta pitturando, comunque. Bene, ci torniamo a pompare però, eh. 6 secondi, la Verstapp è in cacchio, è in cacchio, è in cacchio. Ok. Ci aspettano altri 5. Totale del cume. Adesso dovremo ad alzare anche la difficoltà. Signori, il cume è tornato. Seconda vittoria a entregare. Veneziano vuole fare grandi cose già in Aston Martin. Sarà dura vincere il mondiale, ma... Siamo i candidati namberone per il prossimo anno. Dai, cume. Ha smesso di piovere da qualche giro, ma... La pista è rimasta umida, quindi niente gomme d'asciutto. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 3 giri. Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Miglior secondo settore Assoluto La pista ovviamente si sta asciugando Sempre più E qua va un po' lungo il Cume E il Cume va a vincere Il Gran Premio di Catalogna Yes, yes, yes Hai guidato in modo fantastico Hai meritato di vincere la gara Eh sì Per tre giorno però Alfonso signori Grande vittoria per l'Aston Martin Stasera il team avrà ragione di festeggiare Oh yes Secondo te Davide Qual è stato il fattore chiave di questa vittoria? Credo che oggi le condizioni della pista Come il vento e la temperatura dell'asfalto Fossero perfette per l'auto Se pensiamo che sono vetture che rendono al massimo Quando le gomme vanno a temperatura Possiamo intuire che una gara sarà in discesa Se ci sono le condizioni adatte Eccolo 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 Guardiamo insieme la classifica piloti aggiornata Non è stato il weekend migliore per il leader del campionato Classifica Dai Meno 54 Dunque Carlo Davide Valsecchi Chi definiresti il miglior pilota della giornata? Non siamo così lontani Oggi Max Vestappen Ha guidato con una tranquillità Guardi Nella costruttore Anche qua tutti l'ala E' stato lui il mio preferito Assolutamente E passiamo ai costruttori La Mercedes aumenta il suo vantaggio E con questo si chiude un altro weekend di grande Formula 1 Ma la stagione è ancora nel vivo Dominio Quindi non perdete Le prossime gare Allora, non soltanto del Comandone Veneziano Ci sarà un aumento della difficoltà ovviamente E però comunque Grande prima stagione Ciao